il premio per la sua attività di organista, che l'ho visto vincere diversi concorsi nazionali e internazionali, complimenti. Mi fa molto piacere premiare personalmente Alessandro, perché Alessandro profitto per un bambino o un ragazzino nell'oratorio di Lugano Revo, di fatto, e c'è una rappresentanza anche importante del coro della patroccia di Lugano Revo, di cui Alessandro è stato organizzato per gli essi anni. Mi senti e ringraziare che è stato importante per me, per la mia educazione musicale, innanzitutto la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto negli studi, non posso dimenticare che i miei primi studi musicali è la scuola di musica di Casapenovo, la persona di Massimo Marza che è presente, che stasera ho ritrovato con molta gioia e felicità e lo ricordo molto caramente, soprattutto agli studenti della scuola di musica di Casapenovo che si sono succeduti in questi anni, perché credo che per il secondo anno la scuola di musica viene premiata, quindi questa è una cosa importante, molto bella. vorrei anche dire che è anche importante credere nello studio delle arti, perché molto spesso non si pensa al musicista come una professione, ma invece penso che veramente il mondo, come si diceva prima, abbia bisogno anche di questo. grazie 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 grazie